Ciao ragazzi, oggi vi propongo una specie di sondaggio Allora, andate su speedtest.net e selezionate la piramidina che c'è su Roma e ditemi quanto vi vengono questi risultati cioè, è la prova della vostra connessione il download in megabyte al secondo il ping, cioè il tempo di risposta tra te e il server e che deve essere minore minore, meglio è la connessione e poi l'upload quanto vi da e poi specificate che tipo di contratto avete io vi dico subito che ho una tele con 20 MB flat la dice 20 MB oggi di domenica mi da 15,30 MB in load e 0,86 di app e 36 di ping che non è buono perché non è configurato in fast al contrario di fast comunque ditemi che connessione avete e niente, quindi ciao ragazzi grazie a tutti